In sediamento del Consiglio Comunale di Favara, eletti Presidente e Vice, i lavori si sono fermati alla Costituzione delle Commissioni Consigliari Permanenti. La pubblica assiste è stata rinviata domani, giovedì, alle ore 19. Puntuali alle ore 10, i 30 neoconsiglieri si sono presentati nella Sala del Collare del Castello Chiaramonte, dove è stata allestita l'Aula Consigliare. A presiedere momentaneamente la prima seduta, il consigliere eletto, anagraficamente più anziano, ovvero Giuseppe Bellavia, di Fli. Ad effettuare l'appello dei presenti, invece, il Segretario Generale del Comune, Calogero Marrella. Subito dopo, si è passato al giuramento dei 30 rappresentanti del popolo. A seguire, le dichiarazioni dei singoli consiglieri sulla possidenza dei requisiti di elegibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale. Concluso l'iter previsto dalla vigente normativa, il giuramento del Sindaco, Rosario Manganella. Citando il Presidente della Repubblica Napolitano, lo aveva fatto il giorno della proclamazione, oggi ha ripetuto l'appello all'unità alle forze politiche e nell'interesse del bene della città. Sì, ho voluto prendere spunto dalle parole del Presidente della Repubblica, onorevole Giorgio Napolitano, per farle mie, anche se per la verità avevo già detto le stesse cose in precedenza. Io sono perfettamente confinto che le emergenze che travagliano il nostro Paese hanno bisogno dell'unità e delle forze sane presente in questa assisi comunale. Quindi mi sono rivolto in maniera particolare, oltre che alla maggioranza, alle minoranze, perché assieme, in uno spirito solidale e unitario, possiamo trovare tutti quegli elementi che ci mettono in condizione per cambiare il destino della città di Favara, che non è detto deve essere sempre triste e sempre molto grave. Il primo consigliere ad intervenire in sala è stato Antonio Fallea del PDL. Nella vita politica, ha detto Fallea, capita di incassare duri colpi. Il PDL è un grande partito, ha continuato il consigliere, ed io sono fiero di farne parte. La tristezza che ho oggi, ha detto ancora Fallea, non vuole rovinare la festa di altri. Interpretando l'intervento di Fallea, si denota che allo stesso, probabilmente, non ha gradito la scelta del suo partito di candidare a Presidente del Consiglio il suo collega di partito Leonardo Pitruzzella. Fallea ha poi concluso il suo discorso, citando il premio Nobel Dario Faux sul coraggio dei folli. Prima del passaggio all'elezione del Presidente dell'Assise, la seduta, su proposta del consigliere di Forza del Sud, Primavera Favarese Gaetano Caramazza, ha osservato diversi minuti di sospensione e al rientro, si è passati alla votazione per l'elezione del Presidente. Allo sfoglio delle schede, con 21 voti, Leonardo Pitruzzella viene eletto. Un applauso aveva interrotto lo scrutinio alla sedicesima preferenza che i consiglieri avevano attribuito al neopresidente. Stessa modalità di elezione anche per il Vice, che per la prima volta nella storia del Consiglio Comunale di Favara, è una donna, la giovane Erika Matina del PID. Subito dopo la nomina delle due massime cariche del civico consesso, diversi gli interventi di auguri che i consiglieri hanno rivolto ai due loro rappresentanti. Per il consigliere Giuseppe Bellavia di Fli, la nuova maggioranza si è accaparrata a tutte le poltrone, non rispettando il sostanziale equilibrio elettorale dello scorso 29 e 30 maggio. Al consigliere di Fli ha replicato Gaetano Caramazza, di Forza del Sud e Primavera Favarese, che non ha accettato le dichiarazioni del collega Finiano. Proseguendo nei lunghi lavori dettati dalla burocratica forma di insediamento, la Sise ha eletto i membri della Commissione Comunale Elettorale, che secondo la legge deve essere formata dal sindaco e da tre consiglieri comunali, di cui uno, almeno, espressione della minoranza. Dai voti dichiarati in aula i tre membri eletti della Commissione sono i consiglieri Maria Vella del PIDL, Francesco Salemi di Fli e Gaetano Caramazza di Forza del Sud. Eletti anche i sostituti Salvatore Broccia del PID, Antonio Limbrici dell'MPA e Tania Sgarito di Fli. L'ultimo punto all'ordine del giorno della seduta riguardava la strutturazione delle nove commissioni comunali permanenti. Secondo gli esiti elettorali, la legge stabilisce il numero dei membri di ciascun partito che comporranno le commissioni, che saranno così composte. Nove rappresentanti in commissione ciascuno per Fli e PIDL, sette per l'MPA, quattro per il PID, tre invece per PIDI Forza del Sud Primavera Favarese e per Favara. Un solo membro a testa invece per ripensare Favara e Udc. I membri delle commissioni devono essere designati dai capi gruppo, ma non essendo ancora state assegnate dai partiti le cariche, la seduta su proposta del consigliere Caramazza è stata rinviata domani alle ore 19, sempre nella sala del collare del Castello Chiaramonte.